Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. In questo video vi parlerò di due prodotti che abbiamo scelto di revisionare e migliorare. Le Lip Tint Pure Biocosmetics hanno rappresentato sicuramente un'innovazione nel mondo della cosmesi naturale e biologica e ancora oggi, a distanza di circa tre anni dal loro lancio, rappresentano un prodotto innovativo. In questi tre anni non abbiamo mai smesso di lavorarci perché per noi è fondamentale raggiungere delle performance ottime ma soprattutto perché non ci accontentiamo mai. Quindi oggi vi presento le nuove Lip Tint 2020. La nostra nuova Lip Tint risulta migliorata in termini di texture, formulazione, asciugatura e tenuta. Abbiamo revisionato anche la gamma colore allineandola alle tendenze di quest'anno ma soprattutto ci teniamo a ringraziarvi perché grazie al vostro contributo abbiamo potuto migliorare anche queste scelte. Questa Lip Tint è caratterizzata da alta pigmentazione, formula vellutata e soprattutto è super confortevole sulle labbra, non fa strato. Non abbiamo invece modificato il packaging. Avete apprezzato lo speciale applicatore dalla forma arrotondata e flessibile, a seconda della forma delle labbra rendendo l'applicazione molto semplice. La nuova texture risulta cremosa grazie alla cera carnauba e all'olio d'argan biologici, mentre il finish opaco è garantito dal caolino e dalla silica che permettono a questo rossetto di asciugarsi velocemente sulle labbra. Ecco le sette nuance. 1. Nude, 2. Aragosta, 3. Nude pescato, 4. Rosa freddo, 5. Rosso mattone, 6. Rosa scuro, 7. Rosso cioccolato. L'altro prodotto di cui vi vorrei parlare è il nostro Lip Gloss. Anche la gamma dei nostri Lip Gloss è stata revisionata e ampliata e adesso disponibile in quattro nuance. L'effetto specchio rende le labbra apparentemente più voluminose, mentre l'olio di cocco biologico dalle proprietà nutrienti mantiene le labbra morbide. Ritroviamo anche qui lo stesso pack e lo stesso applicatore. È possibile utilizzarlo da solo, ma anche in combinazione con i nostri rossetti e tinte, come top coat. Le quattro nuance sono 1. Trasparente, 2. Rosa, 3. Arancio, 4. Pompelmo rosa. La coperenza è leggera e delicata, così da poter essere usato tranquillamente anche da chi è meno esperto. È un prodotto top da portare sempre in borsetta per un ritocco veloce. Sia le Lip Tint che Gloss 2020 sono riconoscibili dal bollino New. Spero che queste novità vi siano piaciute. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e lasciateci un like se il video vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!